Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! 3 Dzwoni do mnie. Jakiś. No. Tylko, k***o błagał! Ja mam bez senzyry. Io sono senza sensori. Io sono senza sensori. Io sono senza sensori. Tu sei po******. Bessere più... Bessere più bogati! Bessere più bogati! Bessere più bogati! Io tu non mi ha detto! No, non si è po******. E tu sei po******! Mogai che tu... Mogai che tu asciuggerli! Pag.piazzate, che... Narkotyки miscono i creano le persone. Le creano le leggende. Cosa! I raiare più... ια più dolore. Che già più dritta. ARDINETA I E ora se cercheri che non le faccio? Non c'è più No, non c'è più! Ti va non lo faccio e non lo faccio. No, non c'è più nulla! Oh, come Deus! Ma che nulla del terzo! for once what nothing oh 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 my god we're super heroes Jerry that was so sick Jerry yeah oh my god that was so sick how did you go to you you me Non è un po' di questo, ma non è un po' di questo. Ho c'è il rischio C'è il rischio! C'è il rischio! Il rischio non c'è il rischio! Il rischio non è un rischio! L'altro... Non... Bost prodotti... Si si non pensava... Alcumptor... Bost... ... ... ma oggi il corso è non è difficile tutti hanno parlato di questo questa nuova, in questo modo, e vivi con il nostro E hanno sentito un personaggio Oggi solo Oggi è il terreno Si è il terreno Oggi è il terreno Oggi non stiamo Oggi si è il terreno MISCO Garegge senza uscita E? C'è qui qui è il caso? Ok! E? 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 Non c'è nessuno Non c'è nessuno 0 3 Non c'è nessuno. Sì. 30 minuti, 40 minuti. Sì. 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 O behaved… Sì. 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 . Ossè? . C'è l'occhio Si puoi se metti Ehi 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 C'è Un po' Un po' Hai, il n'yere 50秒 Kaguetsu! Giaaa! He detto che non funziona Oh my god! DUDE! Are you alive? I have to slob. Oh my god! You got me the fuck! Get me the fuck, Grr! Look how you look! You look look! Cosa? Sì, sì, sì. 5 minuti! My RV! No!